Il secondo Sì, è una giornata significativa oggi? Assolutamente sì Dico spesso che uno dei problemi principali è la conservazione della memoria di ciò che è stato ed è chiaro che se vogliamo evitare che certe catastrofi si ripetano se vogliamo evitare che i mostri che si agitano tuttora in alcune frange siano tali da poter travolgere nuovamente la nostra società dobbiamo ricordare ciò che è stato l'istituzione del giorno della memoria non è solamente la memoria della Shoah che fu una tragedia indescrivibile si fa fatica anche a immaginare che si possono uccidere delle persone solo perché praticano una certa religione non voglio anche dire che appartengono a una certa razza perché mi vergognerei a dire una cosa del genere ma d'altra parte c'è anche chi mette in dubbio l'esistenza storica della Shoah ricordavo poc'anzi, l'ho letto proprio in questi giorni che quando gli alleati cominciarono a liberare i vari campi di concentramento il generale Senauer, che è il comandante supremo degli eserciti alleati raccomandò di fare quante più fotografie era possibile perché lui disse che un domani ci potrebbe essere qualche idiota che potrebbe dire che queste cose non sono mai esistite quindi raccomando ai suoi uomini che si registrasse e si fotografasse quando più è possibile l'orrore e noi a volte dobbiamo guardare in faccia l'orrore per ricordarci ma poi non ci sono state solamente le vittime solamente le vittime della Shoah pensiamo ai milioni di deportati di tutte le nazioni europee e pensiamo anche ai nostri deportati, ai nostri internati oggi abbiamo ricordato due uomini, due cittadini di questa città metropolitana che hanno subito l'internamento nei campi tedeschi semplicemente perché hanno fatto il loro dovere cioè per me è una cosa che ricordare mi ha anche emozionato loro erano militari, erano padri di famiglie, avevano le loro affette però loro hanno preferito affrontare questa terribile esperienza per mantenere fede al loro giuramento di fedeltà all'epoca al re ma io direi alla patria e fra questo sapevano quello che andavano incontro però l'hanno subito fortunatamente sono sopravvissuti e oggi ho potuto salutare i loro figli che ho visto erano molto emozionati e che ha emozionato anche me e dobbiamo continuare non solo nei giorni come questi ma dobbiamo sempre conservare gelosamente la memoria di ciò che è stato è l'unico modo per ricacciare indietro certi demoni per ricacciare indietro certi lati oscuri che comunque si annidano e che noi dobbiamo contrastare non solo con le leggi ma con la nostra capacità critica di conoscere conoscere e perpetuare questa conoscenza basta semplicemente questo non ci vuole moltissimi, non ci vogliono grandi dibattiti grazie